Raga, siamo arrivati fino a Mazzara del Vallo per trovare i loro mucetti, ma saranno davvero buoni? Raga, considerate che hanno 13 gusti di mucetti. Noi abbiamo scelto Low Hacker ed Eppi. Raga, è molto buono, mi ricorda quando ero bambino. Ci troviamo da Mucho Gusto, proprio sul lungomare di Mazzara. E ora che abbiamo sfatato il mito dei mucetti, passiamo al gelato. Faccio assaggiare buquet siciliano, pistacchio, mandorla e cremosa all'arancia. Primo classificato al Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria di Rimini. E quindi, vediamo se il premio ci vale. È incredibile, sento la Sicilia. A te faccio assaggiare tiramisù per lo gelato. Lo gelato sono io. Il più richiesto è un gelato per io. E ora vediamo se ne posso fare. Raga, è meglio il tiramisù della nonna, però in forma di gelato. E quindi, un pancake con bubble waffle non li prendiamo. Questo pancake bello fruttoso. È il bubble waffle con panna a Nutella e un biscottino. Vediamola ad assaggiare. No, raga, io comunque sono pieno, però questo devo finirmelo per forza. La cosa è tavola calda, non la volete? No, l'affaggio. Raga, stra piena, stra buona. E l'arancina, tonda tonda, ragù. Molto buono, è un rego equilibrato. Raga, non potevamo non provare la loro pasticceria. Raga, io amo il babà, è il mio dolce preferito. E ora proviamo il namelaka. Super creamy e super crunch. E se il video vi è piaciuto, salvergli le venite a mucho gusto.